amici di ciclo marettona buongiorno questo non è bruno qua eccolo bruno buongiorno quello che avete visto però è come me sono fermo immobile come quel gabbiano primo strappo strappone in salita per cominciare bene la giornata e poi a seguire direzione direzione lucca oggi dovrebbe essere una tappa di tra virgolette di recupero rispetto agli sforzi che ha fatto ieri quindi bene abbiamo prontato molto bene colazione abbondante adesso non ci rimane che ricominciare le bici le bici sono pronte e cariche e io sono come quel gabbiano starei volentieri lì sopra in eternum ad aspettare che i giorni passino che tu passino un bruno molto poetico un raggio di sole molto andato cioè più di poi dico ragazzi bellissimo e quindi con questo splendido scorcio di lerici noi vi auguriamo buon lunedì buon inizio settimana buona giornata e let's ride with us always on the road ciao Amici di Ciclo Marettona Siamo a Via Reggio Al Belvedere delle Maschere E questo è l'ultimo video Dalla Costa Tirrenica Ah già è vero Questo è Burlamacco Maschera ufficiale del Carnevale di Via Reggio Questo è Bruno Maschera ufficiale della Ciclo Marettona La prima foto che abbiamo fatto Di Ciclo Marettona è stata qua sotto Ha portato bene E quindi nuova foto Adesso ripartiamo in direzione Lucca Buonasera Buonasera Bruno ha voluto aprire la diretta Con sotto il braccio La nostra colazione di domani Vuol dire ragazzi Reality show Cioè vuol dire Il bello della diretta È che domani dobbiamo poi mangiarci colazione Siamo in piazza dell'anfiteatro A Lucca Esatto A Lucca Siamo a Lucca In piazza dell'anfiteatro Detto ciò oggi Tappa abbastanza impegnativa La prefazio è che abbiamo appena finito di farci un litrozzo di bianco Direi Lucca Come sempre bellissima città E noi abbiamo fatto il possibile per alloggiare all'interno delle mura praticamente Quindi diventa molto facilitante girare e vedere quello che è la città Sia io che Andri l'avevamo già vista Ma forse sarà il vino Merita sempre Merita sempre Bravo Assolutamente Altre cose Che possiamo dire Adesso andiamo a farci ancora una passeggiata Qualche foto Che poi posteremo Ok E domani Domani è dura Però la colazione che hai sotto il braccio ci salverà Ragazzi Buona serata Buonanotte per noi Per un poco Come il mediatrality Ok Per lui buonanotte Io Va bene Buona serata Let's ride with us Always On the road Yeah